In questo numero del SarustiG, Lorenzin, servono misure sulle breast unit nella legge di bilancio. Scoperto l'ormone dell'aggressività nei cani. 50.000 italiani in dialisi arrivano a membrana simile al rene. Prevedere nella legge di bilancio fondi da dedicare alle breast unit. Le unità specializzate nella diagnosi e cura del tumore al seno purtroppo oggi non sono ancora attive in diverse aree del nostro paese. L'ha dichiarato il ministro della salute Beatrice Lorenzin intervenendo al convegno tumore al seno in Italia in Senato. Quella delle breast unit è una necessità di civiltà, non la voglio neanche più chiamare battaglia, abbiamo fatto la legge, l'abbiamo finanziata, l'abbiamo messa, ci si devono fare e quindi dobbiamo immaginare secondo me nel percorso di bilancio anche qualche misura. Se il cane soffre di quella che gli esperti chiamano aggressività da guinzaglio quando vede un suo simile, cosa che porta l'animale a tirare, a baiare e ringhiare, trasformando una piacevole camminata in un evento potenzialmente pericoloso, potrebbe essere colpa di un ormone, la vasopressina. A dimostrarlo un nuovo studio statunitense che ha valutato le fluttuazioni di questo ormone e dell'ossitocina in un gruppo di cani stimolati con una serie di rumori e oggetti, fra cui un finto abbaio di cane prima e dopo le interazioni. Secondo la ricerca infine l'ossitocina può aiutare a inibire nei cani l'aggressività. Sono circa 50.000 gli italiani con insufficienza renale cronica terminale che si sottopongono a dialisi. Di questi meno del 10% è trattato a casa con la dialisi peritoneale, mentre gli studi dicono che si potrebbe arrivare al 30%. Questo anche grazie alla terapia di emodialisi HDX, possibile grazie a un nuovo filtro innovativo che permette di rimuovere più efficacemente i soluti uremici, avvicinandosi sempre di più alla fisiologica funzionalità renale. Se ne è parlato al congresso della Società Italiana di Nefrologia a Rimini.